Finalmente in Blu-ray e DVD, il film evento generazionale. C'è stato un risveglio. Luke Skywalker, credevo fosse un mito. La forza, i Jedi, è vero. Tutto. Il fenomeno mondiale arriva a casa tua. Con esclusivi contenuti speciali e scene eliminate. Porta a casa un pezzo di storia. Star Wars, il risveglio della forza. Finalmente in Blu-ray e DVD.